Ciao, sono Giacomo Artale, faccio il fotografo e mi occupo di ritratto da un bel po' di anni. Quali sono le cose più importanti per fare un bel ritratto? Prima di tutto la conoscenza della persona. Se non la conosciamo bene, come facciamo a capire quali sono le sue espressioni più belle, il suo sorriso più bello, oppure la sua arrabbiatura più bella. E poi un'altra cosa importante è che lui, che dobbiamo fotografare, ci deve conoscere, si deve fidare di noi, dopodiché gli ingredienti ci sono. Quindi potete capire come è importantissima la parte psicologica nel ritratto, perché se tu non riesci a rapportarti bene nel modo giusto con una persona, un vero ritratto dell'anima della persona non l'avrai mai fatto. Con questo vi aspetto al corso che faremo presto. Ciao.